Allora, Reti Intelligenti, Ugo Salerno, Presidente Esecutivo Rina, Dottor Roberto Tasca, Presidente A2A. Allora, il vostro approfondimento arriva esattamente dopo, intervista come dire molto asciutta, ma mi pare Salerno, partiamo da lei, quindi, baricca di contenuti e di notizie, perché abbiamo seguito cosa ci ha detto adesso il Ministro Fratin, che ha tracciato una direzione di marcia che è fondamentale per chi? Per chi deve investire? Cioè per chi ha le aziende, siano esse olico, fotovoltaico, nucleare, deve sapere in che direzione stiamo andando. Partiamo da qui e dal mix energetico che è uno dei temi a cui lei è più affezionata. Beh, certamente. Allora, il discorso del mix energetico è fondamentale e siamo partiti dal discorso delle reti intelligenti. Allora, le reti sono quelle che adesso stanno subendo il maggiore stress per il fatto che stiamo cambiando il mix energetico e siamo passati da centrali che producevano e producono ancora più o meno in maniera stabile e in maniera quindi controllabile a una generazione di energia che non è controllabile, che è quella delle rinnovabili. Non è controllabile perché abbiamo ovviamente l'incidenza del meteo sulla capacità di emettere. Allora, a questo punto noi dobbiamo pensare ad un mix energetico che ci consenta di gestire poi in futuro la erogazione di energia, in particolare se stiamo parlando di reti elettriche. Dobbiamo avere quindi un sistema che ci permetta di non stressare oltre il limite queste reti elettriche. Possiamo cercare di stabilizzare queste reti intanto con il sistema delle smart grid. Le smart grid sono non più delle reti tradizionali ma delle reti che hanno come guida sistemi IT, di sistemi di intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale ce l'abbiamo tra i piedi fortunatamente da tanti anni, ma che aiutano a stabilizzare la rete, cioè aiutano a guidare l'indirizzamento dell'energia in maniera automatica. Però abbiamo bisogno anche di un'altra cosa, di dare stabilità. Allora se noi volessimo andare a lavorare tutto con rinnovabili, teoricamente sarebbe possibile, purché avessimo dei sistemi poi di storage talmente immensi che ci permettano di bilanciare la mancanza di energia quando questa energia non c'è. La soluzione migliore qual è? Avere un po' di storage, ma avere dell'energia che sia in qualche modo prodotta in maniera stabile e in maniera controllata. Ecco qui il ministro parlava di nucleare, sicuramente il nucleare è un eccellente stabilizzatore della generazione di energia quando l'energia è rinnovabile. Le voglio fare però questa domanda specifica sul nucleare. Ci vogliono circa 2 miliardi per fare un reattore modulare piccolo. Abbiamo avuto, eravamo proprio insieme l'anno scorso, non mi ricordo se qui o a Capri, il grande Stefano Buono, New Clio, che ce ne ha parlato con dovizia di particolari. Allora, se questo è il costo, che cosa dobbiamo immaginare per gli investimenti? Un ruolo pubblico privato? Su questo possiamo fare un po' di chiarezza in più e poi andiamo da due anni. Allora, al momento ci diceva il ministro Picchetto Frettini, non c'è nessuna energia che non sia in qualche modo sovvenzionata, quindi un po' di aiuto ci potrebbe volere. Teniamo conto però che noi stiamo parlando oggi di dei numeri assolutamente ipotetici, perché la produzione dei reattori modulari piccoli non è ancora iniziata. Inizierà a breve, ma la produzione dei reattori modulari piccola funzionerà se questi reattori avranno anche dei costi compatibili. Le faccio un esempio che non c'entra con terra, ma per esempio su una nave. Oggi, se noi vogliamo mettere un piccolo reattore su una nave al posto del motore, è chiaro che questo reattore costa uno sproposito rispetto al motore. Però se noi pensiamo che questo dura 60 anni o più, vuol dire che noi lo dobbiamo paragonare almeno al costo di tre motori e quindi incominciamo ad avvicinarci. Io sono convinto che l'energia nucleare avrà un futuro e sono convinto che lo avrà perché diventerà competitiva, perché produrre questi reattori in fabbrica ha un costo completamente diverso rispetto a produrre energia nucleare con centrali che vengono costruite sul posto e che a questo punto hanno dei tempi colossali di organizzazione. E allora, poi facciamo un secondo giro. Con il dottor Tasca voglio ritornare anche qui a una questione molto concreta, che riguarda la distribuzione dell'energia elettrica. Allora sappiamo, se non ricordo male, che la legge Bersani scade nel 2029 e da 2025 viene rimessa sul mercato il grande tema delle concessioni. Partiamo da qui perché a proposito di reti intelligenti questo è un punto di partenza, no? Sì, grazie e buongiorno a tutti. Dunque, una considerazione ancora monte. Noi prima di occuparci della rete distributiva abbiamo ancora un tema di concessioni sulla generazione perché non vorrei che corressimo troppo avanti. Si parlava prima, Ugo diceva, il nucleare, il nucleare Stefano ci diceva due settimane fa quando l'abbiamo incontrato che farà il primo impianto, partirà nel 2031 e non sarà in Italia. Quindi abbiamo un'asprettativa di almeno 7-8 anni ancora per averlo attivo. Noi in Italia abbiamo una capacità di produzione dell'energia di idroelettrica che ancora non è sfruttata pienamente. Mancano due cose. A, il rinnovo di concessioni che attendiamo da tempo perché le società devono fare investimenti e dall'altro lato ovviamente nuovi invasi. E questo è un primo punto a cui farei, diciamo, una chiosa di riferimento. Due, Bersani, tu dicevi, 2029, distribuzione, Enel più dell'85% della rete nazionale, noi abbiamo comprato da Enel, siamo il secondo player, abbiamo il 5% ed è chiaro che anche su questo forse va fatta una riflessione. Terzo e ultimo punto, rinnovabili. Per facilitare, se è vero che uscirà il decreto sulle aree di donor saremo tutti contenti. Se è vero, bravo, molto pragmatico, se è vero, ce l'ha promesso qui, quindi questo, dice, noi lo aspettiamo da tempo questo. Quando, da un po'. Eh? Quando, sì, prego. Salerno, senza entrare nella questione. L'importanza delle energie rinnovabili sull'idroelettrico invece che cosa possiamo dire in più? Beh, sicuramente l'idroelettrico è una fonte di energia che noi in Italia utilizziamo moltissimo, infatti ha un grandissimo peso quando noi pensiamo alle rinnovabili, ultimamente pensiamo all'eolico e al fotovoltaico, ma l'idroelettrico ha un peso notevolissimo, un peso preponderante. L'idroelettrico può ancora essere potenziato probabilmente con bacini relativamente piccoli e con quello che è il mini-idro, però per fare questo bisogna avere delle autorizzazioni che sono estremamente complesse. Dall'altro lato, se noi pensiamo alla sinergia che c'è fra il discorso energia e il discorso acqua, costruire degli ulteriori bacini vuol dire finalmente sprecare molto meno dell'acqua che scorre dopo le piogge e quindi non avere i problemi che abbiamo avuto di siccità che sono una cosa assurda visto che l'Italia è uno dei paesi più piovosi e più piovosa di Germania ed Olanda. Il problema è che noi la disperdiamo quest'acqua. L'idroelettrico sicuramente può aiutare molto, è molto difficile perché le norme sono fatte così, non è che i burocrati sono nemici, qualche volta non si prendono le responsabilità, ma il problema è che noi dobbiamo seguire, è quello che diceva lei in precedenza a proposito delle autorizzazioni, una serie di autorizzazioni e di comitati e di opposizioni che ci bloccano. E quindi il mini-idro è una delle cose su cui si riesce a lavorare con meno facilità. Però non dobbiamo pensare che il discorso delle rinnovabili, perché ogni tanto io lo sento dire, l'ho sentito dire anche ieri sera alla televisione da un partito politico, che noi possiamo fare tutto quanto con le rinnovabili. E' assolutamente impensabile. Oggi il ministro ci diceva non possiamo riempire, noi abbiamo fatto due conti con l'assorbimento di energia di oggi, che non è l'assorbimento di energia tra dieci anni. Noi per fare tutto rinnovabile in Italia avremo bisogno di coprire all'incirca 8 mila chilometri quadrati, che sono 800 mila ettari. Noi in Italia abbiamo usato 2 milioni e 100 mila ettari in tutto. Questo è una cosa assolutamente inimmaginabile. Allora dobbiamo lavorare su tutte le tecnologie possibili. Mi dicevate il nucleare, certo il nucleare, i mini-reattori partiranno probabilmente fra 7-8 anni e la quarta generazione probabilmente fra 12. Ma noi abbiamo delle tecnologie di transizione che sono fondamentali e che sono state combattute fino a poco tempo fa, ormai sono state sdoganate. La tecnologia è quella della cattura della CO2. Con la cattura della CO2 noi possiamo continuare a usare combustibili fossili con un impatto infinitamente inferiore. E questa è una delle tecnologie su cui dobbiamo lavorare, perché è una tecnologia ancora molto rozza, perché non è stata richiesta, ma nel momento in cui viene richiesta. Noi lo sappiamo sempre che l'industria poi ci sorprende per la velocità e per i progressi che fa, molto più rapidi di quelli che ci immaginiamo, però ha bisogno di richiesta. Oggi la cattura della CO2, che è la tecnologia di transizione più efficace e da applicare più rapidamente, sta crescendo fortunatamente. E allora, dottor Tasca, grandi aziende europee disposte a mettere capitali, e quindi possiamo cercare di affrontarlo un attimo questo tema, il problema è di dare gli impianti a una gestione estera. C'è anche questo aspetto? Beh, le concessioni non sono oggetto di Bolkenstein, quindi non dovrebbero andare a gara. In realtà quello che sta al momento prevalendo è un orientamento verso la gara. Allora, nel momento in cui si va... Giusto, secondo lei, sì. No, no perché non lo fa nessuno in Europa, quindi in questo momento credo che imitare l'Europa per una cosa che l'Europa non fa, non credo che sia utile per nessuno. Basterebbe, diciamo, continuare a fare quello che abbiamo fatto. Noi abbiamo possibilità di avere imprese italiane che investono e quindi direttamente, diciamo, trovare con questi come interlocutori. C'è un tema poi politico dietro a questo, ovviamente, perché domani mattina in condizioni di siccità, noi possiamo trovare capitali esteri che vengono e comprano la concessione o vincono la gara per la concessione in Valtellina. Dopodiché nel momento in cui c'è siccità e bisogna discutere se ovviamente turbinare o mettere l'acqua al servizio dell'agricoltura, credo che la scelta, data la redditività diversa, possa essere una sola in un caso. Noi chiaramente come società italiane abbiamo una sensibilità anche territoriale e culturale diversa. Credo che questo sia un tema su cui vada fatta una riflessione seria. Spesso si dice che, lo stesso Ministro Fitto, dice che dobbiamo attendere la fine dell'erogazione del PNRR per poter discutere di questo aspetto perché è compreso nel decreto competitività di Draghi. Io credo che essendo un tema estremamente rilevante, due giorni fa è uscita la sollecitazione da parte del Consiglio di Energia del Ministro degli Europei, in questo senso credo che il tempo sia sempre meno perché noi gli investimenti siamo in grado di farli ma abbiamo bisogno di rinnovare cose che viceversa non abbiamo. Questo mi sembra una questione in realtà di primaria importanza però come la stiamo... Adesso lo stiamo facendo a nostro formale di titolo perché lei ce lo sta argomentando bene però è una questione strategica per il nostro Paese. Indubbiamente soprattutto se vogliamo mantenere un mix che è confacente a quella che è la nostra capacità riproduttiva. Siamo già in ritardo sulla decisione secondo lei? Le concessioni, noi diciamo le nostre concessioni ne abbiamo sette già scadute e siamo, dicevo, a parte Enel, sicuramente con Edison il principale concessionario italiano. E noi ovviamente finché non abbiamo rinnova delle concessioni gli investimenti per un motivo di responsabilità civile non li possiamo fare. Io insisto perché così tiro fuori notizie, no? Pungoliamo chi poi deve decidere. Per chiudere ci riporta al tema dell'intelligenza artificiale. Non dobbiamo sottovalutare il fatto che tutta questa bella intelligenza artificiale ha un grande costo energetico però. Cioè mantenere attivi questi cervelloni, un po' come il nostro corpo che abbiamo bisogno di mangiare... È un costo energetico immenso al momento attuale perché in pochi anni noi arriveremo ad un consumo dei centri di calcoli che è paragonabile al consumo di energia per produrre l'acciaio al mondo. Quindi sono numeri stratosferici. In particolare la generativa ha un consumo, un assorbimento di energia che più o meno tre volte... Cioè se io faccio una ricerca su ChatGPT e su Google, su ChatGPT ci metto tre volte. A2A proprio ha dichiarato che dovranno potenziare enormemente la capacità di alimentare di energia la città di Milano proprio perché ci sono dei consumi spaventosi che derivano da questo. Allora, non possiamo per questo dire che fermiamo il mondo. Ne parlavamo l'altra volta con Roberto e Roberto proprio ha detto una cosa secondo me molto giusta. Un pezzo di energia la possiamo recuperare sfruttando il calore perché poi questa energia va in buona parte in calore sfruttando il calore di questi centri di calcolo. Comunque io credo che il lavoro che stanno facendo coloro che lavorano sui microprocessori è proprio quello di creare microprocessori che siano più efficienti dal punto di vista energetico in modo tale da poter risolvere una parte di questo problema. È certo che noi ci troveremo con questi consumi che cresceranno esponenzialmente. Ecco, Tasca, chiudiamo anche con lei con una riflessione esattamente su questo. Lo abbiamo calcolato appunto quanto ci costa mantenere questi supercelluloni. L'incremento previsto per questi 23 nuovi data center potrebbe arrivare ad essere pari al 100% di quello che è il consumo ad oggi di elettricità dei data center insediati. Questo necessariamente implica che bisogna aumentare la produzione. Vantaggio, data center producono cascami termici. Noi usiamo già cascami termici per riscaldare o rifrigerare 234.000 famiglie a Milano ad esempio. È chiaro che però anche qui c'è un problema. Bisogna fare degli investimenti, bisogna fare i buchi, mettere i tubi. Quindi bisogna che da questo punto di vista ci sia una certezza perché purtroppo gli investimenti in infrastrutture hanno bisogno di tempo. E quando noi poi rispondiamo al mercato essendo quotati il mercato ci chiede, va bene, ma avete fatto un investimento e siete sicuri che per questo tempo avremo la possibilità di remunerarlo? Punto di domanda. Grazie. Grazie anche per la vostra concretezza che ci avete portato nel dibattito. Grazie dottor Tasca, grazie. Grazie Salerno.